Bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qui con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Oggi amici parliamo di un caso molto molto conosciuto e a proposito di questo voglio fare soltanto un piccolissimo appunto perché quando faccio casi poco conosciuti ricevo tantissimi commenti di persone che mi chiedono invece di fare casi più conosciuti ma intendo tanti commenti. Il caso di oggi per esempio se vi facessi vedere il modulo di richiesta casi è onnipresente, me l'avete chiesto in migliaia, ma a volte poi succede che quando faccio un caso molto conosciuto ricevo commenti poco carini di gente che mi scrive che palle, questo caso lo conosciamo già, mi disiscrivo. Però amici io voglio accontentare tutti e credetemi mi muovo tantissimo anche in base a quello che mi chiedete voi quindi spero che non vi arrabbiate ma in questo periodo farò diversi casi conosciuti perché sono i casi che mi chiedete di più e quindi penso che anche i casi più conosciuti vadano trattati. Detto questo amici oggi vi parlo del famigerato caso di Casey Anthony, quella che probabilmente è la donna più odiata d'America e se per caso non conoscete la storia preparatevi ad innervosirvi, io vi ho avvisati. Casey Marie Anthony nasce a Warren in Ohio il 19 marzo del 1986 ed è figlia di un poliziotto di nome George e di sua moglie Cindy che fa l'infermiera. All'inizio Casey sembra una bambina come tante, anzi forse sopra la media, è intelligente, brillante, con molti amici ma una volta arrivata al liceo la sua famiglia e i suoi amici iniziano a notare che Casey aveva preso una brutta abitudine, quella di mentire. Ma mentire su tutto, anche sulle cose più futili, per esempio, questa non è proprio una cosa futile ma per farvi capire, alla fine dell'ultimo anno di liceo Casey invita i suoi genitori e i suoi nonni alla cerimonia del diploma che si fa in America nelle scuole avete presente in cui poi si lancia il cappello in aria. Bene, a metà dell'evento la sua famiglia scopre che Casey non avrebbe ricevuto il diploma perché aveva smesso di andare a scuola tipo a metà dell'anno e di conseguenza non si era neanche qualificata per diplomarsi, avrebbe dovuto ripetere l'anno. Ma lei per metà anno aveva finto di andare a scuola tutti i giorni e da lì le bugie sono solo peggiorate. A 19 anni Casey inizia a prendere molto peso, i suoi genitori quindi iniziano a sospettare che fosse incinta, ma lei nega questa cosa indignata perché lei era ancora vergine, come vi permettete di pensare una cosa del genere? Ma poco tempo dopo ammette la verità, ovvero non era vergine ed era infatti incinta. Quando i suoi genitori le chiedono chi fosse il padre, lei non sa neanche bene cosa rispondere, non sa con certezza chi sia, quindi fa diversi nomi di uomini con cui era stata e che quindi potenzialmente potevano essere il padre di questa bambina che tra l'altro era una femmina. Tra questi nomi c'erano il suo fidanzato con cui stava in quel periodo, un ragazzo di nome Jess Grand e anche un ex fidanzato che però era morto in un incidente d'auto. O almeno questo è quello che ha raccontato lei e in realtà non c'è nessuna informazione a riguardo, quindi chi lo sa? Ora, da quello che avrete capito, Casey non è proprio pronta a diventare madre e comunque non era proprio una cosa che voleva. Lei passava tutto il suo tempo a uscire con i suoi amici, a fare festa, a bere, quindi diventare madre è sempre stato l'ultimo dei suoi pensieri. Infatti all'inizio l'intenzione era quella di dare la bambina in adozione. L'aveva persino offerta ad una sua amica che non poteva avere figli. Le aveva detto, beh tranquilla tu non puoi avere figli, ti do il mio. Ma sua madre, la madre di Casey, Cindy, impedisce questa cosa e la convince a tenere questa bambina dicendo che l'avrebbe aiutata lei a crescerla. Insomma, l'avrebbero aiutata i suoi genitori e quindi il 9 agosto del 2005 Casey dà alla luce una bambina che chiama Kylie Marie. Casey però non ha un lavoro, non ha un'entrata monetaria di nessun genere, né per mantenere se stessa né sua figlia. Di conseguenza vive a casa dei suoi genitori a Orlando in Florida, insieme anche al suo fidanzato Jess Grant, che ai tempi era convinto di essere lui il papà di Kylie. Dopo un po' però aveva voluto fare un test di paternità che dimostra invece il contrario. Kylie non era figlia di Jess. Il 15 giugno del 2008 Casey ha una discussione con sua mamma Cindy a causa delle sue, diciamo, doti genitoriali. Diciamo che Cindy non pensava che Casey fosse una buona madre per Kylie e non aveva tutti i torti. Ma Casey non accetta assolutamente la critica, è indignata da questa affermazione. Lei è una cattiva madre? Il giorno dopo quindi, il 16 giugno, fa le valigie, prende sua figlia Kylie, che nel frattempo aveva tre anni, e lascia casa dei suoi genitori e se ne va. I suoi genitori più volte tentano di chiamarla, di contattarla per chiederle scusa, per fare pace, per farla tornare a casa, sapendo la situazione precaria in cui si trovava. Non aveva soldi, non aveva un lavoro. Dove sarebbe andata a dormire con una bambina di tre anni? Come le avrebbe dato da mangiare? Ma Casey rifiuta ogni loro aiuto, dicendogli di non preoccuparsi. Gli dava giusto qualche notizia ogni tanto sulla loro nipotina Kylie, dicendogli di stare tranquilli. Praticamente diceva di aver trovato una babysitter di nome Zenaida Fernandez-Gonzalez, ma che tutti chiamavano Zenni, che si prendeva cura di lei mentre Casey era a lavoro, perché nel frattempo aveva anche trovato un lavoro. Quindi andava tutto alla grande. I genitori non sanno esattamente cosa faccia o dove viva, come già detto Casey gli dava solo qualche notizia qua e là sulla loro nipotina, ma non li aveva mai fatti parlare direttamente con lei al telefono. Non era mai riuscita, perché una volta Kaylee si trovava con la babysitter Zenni, una volta era a giocare a casa di un'amichetta. Insomma, non la trovavano mai questa bambina. Un mese dopo aver lasciato casa dei suoi, precisamente il 15 luglio, il padre di Casey riceve una telefonata da una compagnia di rimozione veicoli. Non so come si chiama esattamente in realtà, comunque sapete quando vi portano via la macchina, il carro attrezzi la porta in un deposito, giusto? Ecco, a quanto pare avevano rimosso la macchina di Casey, che in realtà era la macchina di suo papà, che però usava lei, e l'avevano rimossa perché era stata lasciata di fronte ad un negozio, in un posto in cui non poteva stare, il 28 giugno. A quanto pare avevano già tentato di avvertire Casey quel giorno, che però se n'era altamente fregata. Invece aveva proseguito il suo giro di shopping. Quindi il 15 luglio contattano suo papà per dirgli di andare a recuperare la vettura, sapete poi in quei depositi, cioè quei depositi sono a pagamento, più la macchina rimane lì e più paghi. I genitori di Casey a quel punto si preoccupano perché in realtà Casey gli aveva detto di essere andata a fare una piccola vacanza a Jacksonville con quella macchina. Quindi quella era l'ennesima bugia. Ma la cosa che preoccupa ancora di più i genitori è che quando si recano al deposito e ritirano il veicolo, all'interno trovano la borsa di Casey e non solo. Trovano anche il seggiolino di Kaylee e alcuni suoi giocattoli. Ma la cosa più inquietante è che il bagagliaio emanava un odore disgustoso di putrefazione, che all'inizio pensavano provenisse da una busta piena di immondizia, che era stata lasciata all'interno del veicolo chissà da quanto tempo, ma anche dopo aver buttato via questa spazzatura, quella puzza fortissima persisteva. A quel punto i genitori hanno un'orribile sensazione. Provano quindi a rintracciare la loro figlia, Casey, che però non rispondeva mai al telefono. E finalmente quando riescono a parlare con lei, scoprono che in quel momento si trovava a casa del suo fidanzato, quindi non era neanche a Jacksonville dove aveva detto di essere. Quindi vanno a prenderla lì, a casa del suo fidanzato, ma quando Casey scende, Kaylee non era con lei. I genitori allora le chiedono dove fosse la loro nipotina, era un mese che non riuscivano a parlarle al telefono e stavano iniziando a perdere la pazienza. E a quel punto Casey crolla, scoppia in lacrime e racconta ai genitori che Kaylee era stata rapita dalla babysitter Zenni un mese prima. Immaginate la reazione dei suoi genitori ad una notizia del genere. Kaylee era scomparsa un mese prima e nessuno sapeva nulla perché Casey mentiva continuamente dicendo che appunto era a casa di un amichetto o appunto con la babysitter. Persino il suo fidanzato non sapeva che Kaylee fosse scomparsa, cosa che non riesco molto a capire. Voglio dire, ti sembra normale che la tua fidanzata lasci sua figlia dalla babysitter giorno e notte per un mese? Vabbè, comunque. Cindy, la madre, a quel punto chiama il 911, il numero di emergenza, e in questa telefonata è palesemente sconvolta. Vi riporto le sue parole ma la sua voce è davvero triste, piange, non riesce a respirare e chiaramente nel panico. Dice all'operatore Una bambina di tre anni è scomparsa. Finalmente nostra figlia ha ammesso che la babysitter l'ha rapita. Dobbiamo trovarla. Lei dice che sia stata rapita un mese fa e mia figlia la sta cercando da quel giorno. Ve l'ho detto, non vedevo mia figlia da più di un mese. L'ho rivista solo oggi ma non troviamo mia nipote. Ha appena ammesso che per tutto questo tempo ha provato a trovarla lei da sola. Ma c'è qualcosa che non mi torna. Abbiamo trovato oggi la sua macchina e all'interno c'è una puzza come se ci fosse stato un cadavere. Cindy comunica anche all'operatore che il nome della babysitter che aveva rapito sua nipote è appunto Zenaida Fernandez Gonzales e che, secondo sua figlia, l'aveva rapita ben 31 giorni prima. Quando le autorità chiedono perché Casey non avesse contattato prima la polizia, Cindy risponde che, a quanto pare, il motivo era che stava usando le sue risorse per trovare Kaylee. Il giorno dopo la polizia arriva a casa dei genitori per interrogare Casey. Le chiedono di raccontare tutta la storia dal principio e lei racconta che a metà giugno aveva lasciato sua figlia Kaylee alla babysitter Zenni ma quella sera, quando era tornata lì a prenderla, sia Zenni sia Kaylee erano scomparse, non c'erano più. I detective le chiedono ok, allora portaci a casa di questa babysitter, dici dove vive. Lei lo fa, la polizia quindi suona alla porta di questa abitazione ma non risponde nessuno. Più tardi, dopo un controllo, la polizia scopre che in quell'appartamento non solo non ci viveva nessuna Zenaida ma non ci viveva proprio nessuno da più di 140 giorni, quindi era un'altra bugia. Questa volta però era una bugia alle autorità, quindi giusto un po' più grave. A quel punto la polizia arresta Kaylee per sospetto maltrattamento di minore, falsa testimonianza e ostruzione alla giustizia e fissa una cauzione di 500.000 dollari. Ma Kaylee a tutte queste accuse risponde con tutta calma dicendo che sì certo ha sbagliato ad avere la presunzione di pensare che potesse trovare da sola sua figlia ma allo stesso tempo aveva paura che l'avrebbe messa in pericolo se avesse chiesto aiuto alla polizia o ai media e pensava di aver agito nel giusto ed è convinta che anche i suoi genitori avrebbero agito allo stesso modo. Comunque una volta arrestata i detectivi iniziano ad interrogarla per tentare di capirci qualcosa. Non sapevano neanche da dove cominciare, era tutto così strano. Quale madre non denuncia la scomparsa della figlia per 31 giorni, oltretutto pensando che l'abbiano rapita? Prima di tutto vogliono capire dove fosse Kaylee in quei 31 giorni, cosa aveva fatto in quel periodo. Beh, a quanto pare, sentendo anche diversi testimoni, Kaylee aveva passato quei 31 giorni a fare festa in diversi night club. Aveva fatto una sorta di gara, una hot body contest, che consisteva fondamentalmente nel salire sul palco della discoteca in cui si trovava, insieme anche ad altra gente a caso, per vedere chi avesse il fisico migliore, più hot. Ma non solo questo, amici. In quei giorni si era anche fatta un tatuaggio con su scritto La Bella Vita. Ragazzi, ora va bene tutto, ma se vostra figlia di tre anni scompare, addirittura viene rapita, voi andreste mai a farvi un tatuaggio con su scritto La Bella Vita? Cioè, viverebbe mai questa voglia? Boh, magari sì, perché Kaylee è venuta. Comunque, quando la polizia però chiede a lei, cioè, cosa hai fatto in quei 31 giorni, qual è la tua versione, lei risponde di averli passati investigando sulla scomparsa di Kaylee e lavorando, perché comunque aveva un lavoro e da persona responsabile qual era, aveva continuato ad andarci, a rispettare i suoi impegni. La polizia quindi le chiede dove lavori e lei risponde di lavorare agli Universal Studios a Orlando. I detective le dicono, bene, ci puoi portare lì, ci puoi portare nel tuo ufficio. E lei risponde, sì, certo, che domande. Allora, vanno tutti insieme, vi prego amici, immaginatevi la scena. Kaylee, insieme alle autorità, vanno appunto agli Universal Studios e iniziano a girare. Kaylee è lì che li guida, dicendogli, ok, dobbiamo andare di qua, adesso dobbiamo girare di qua. E ad un certo punto, dopo un po' di tempo che giravano, si ferma e gli dice, ok, no, era una bugia, io non lavoro qua. Scusa. A quanto pare Kaylee aveva lavorato lì, ma era stata licenziata ben due anni prima. No comment. Comunque, come se non bastasse, in quei 31 giorni era anche stata vista andare da un vicino di casa dei suoi genitori, di nome Brian Burner, e c'era andata per chiedergli in prestito una pala. E quando hanno interrogato questa persona, lui racconta che Kaylee quel giorno sembrava normale, come al solito, non sembrava stressata o agitata, nulla. Ma non sa assolutamente a che cosa le servisse quella pala. Lei gliel'ha chiesta in prestito e lui gliel'ha data. Ma, amici, un mese dopo il suo arresto, il 21 agosto, un cacciatore di taglie di nome Leonard Padilla paga i 500.000 dollari di cauzione per far uscire di galera Kaylee, nella speranza che lei collaborasse con le autorità, così da riuscire a trovare la povera Kaylee, che ancora era, appunto, scomparsa, nessuno sapeva dove fosse. Le viene però imposto di indossare una cavigliere elettronica che tracciasse tutti i suoi movimenti fino alla data di inizio del suo processo. Nel frattempo i detective, appunto, continuano, ovviamente, a cercare la piccola Kaylee e anche la babysitter Zenni. E, spoiler alert, Kaylee non ha mai collaborato con le autorità, con le ricerche, anzi, il suo aiuto è stato assolutamente inutile durante le indagini. Il caso a quel punto era diventato famosissimo, in America non si parlava d'altro, la gente odiava Kaylee, era disgustata dalle sue azioni e dal suo comportamento nel periodo successivo alla scomparsa di Kaylee. Otto giorni dopo la sua scarcerazione, però, Kaylee viene arrestata nuovamente per frode e furto d'identità. E questo perché aveva tentato di usare il libretto degli assegni di una sua amica, spacciandosi anche per lei, però tutto senza il suo consenso. Un paio di settimane dopo, però, viene nuovamente rilasciata perché qualcuno paga la cauzione, che era di nuovo stata fissata a 500.000 dollari. Ma stavolta non si sa chi sia stato a pagarla. Ma siamo già, comunque, ad un milione di dollari che la gente ha pagato per scarcerare questa persona. Ma il 15 settembre, non contenta, si fa arrestare di nuovo per furto, anche se non ho trovato le specifiche. E dieci giorni dopo, amici, tutti i giornali pubblicano in prima pagina una notizia bomba. A quanto pare, una donna di nome Zenaida Fernandez Gonzales, che sarebbe il nome della babysitter che in teoria aveva rapito Kaylee, fa causa a Casey Anthony. Praticamente, la vita di questa donna era diventata un inferno perché tutti erano convinti che avesse rapito questa bambina, mentre in realtà non è così. Non faceva la babysitter e non aveva neanche mai visto Casey né Kaylee in vita sua. Cioè, aveva solo lo stesso nome di questa fantomatica babysitter di cui parlava Casey. Gli investigatori, ovviamente, indagano su questo. Cercano in tutti i dispositivi elettronici, sia di Casey, sia di questa Zenaida, delle prove che le due si conoscessero o che si fossero anche soltanto parlate una volta nella vita, ma non trovano effettivamente niente. A quanto pare, amici, non esisteva nessuna babysitter di nome Zenaida, detta Zenni. Questa persona non risultava da nessuna parte. E questo perché non esisteva. E basta, questa era l'ennesima bugia. Alcuni sostengono che quando Casey diceva Ah sì, Kaylee è da Zenni, la babysitter, che tra l'altro in inglese suona anche un po' strano, fa anche un po' ridere perché diventa Zenni the Nanny, si pensa che in realtà intendesse che le aveva dato dell'oxanax. Perché vedete, in inglese l'oxanax viene anche chiamato Zenni. Quindi in molti pensavano che fosse un modo per dire che appunto le aveva dato dell'oxanax per farla dormire e quindi è come se fosse con la babysitter, no? Con Zenni the Nanny, che secondo me ha senso come teoria, ma questa è solo speculazione, chiaramente lei non ha mai ammesso questa cosa. Fatto sta, amici, che di questa babysitter Zenni non c'è mai stata nessuna traccia. Non esisteva, dimentichiamola. Guardando tra le ricerche del suo computer, scopriamo anche che mesi prima della scomparsa di Kaylee, Casey aveva visitato il sito dedicato ai bambini scomparsi in America e più volte aveva cercato la parola cloroformio su Google. E questa ricerca è molto importante e vi spiego subito il perché. Quando la polizia analizza la macchina di Casey, quella che era stata portata via dal carroattrezzi quella che a detta della madre puzzava come se ci fosse stato un cadavere, all'interno ci trovano tracce di cloroformio e tracce di un corpo in decomposizione. Cioè un corpo in decomposizione era stato nel bagagliaio di quest'auto. Oltretutto l'FBI trova anche dei capelli che appartenevano a Kaylee e anche sui capelli c'erano appunto tracce di decomposizione come se fossero stati a contatto con un cadavere. Il 2 ottobre del 2008 quindi Casey viene ufficialmente nominata una sospettata nel caso della scomparsa di sua figlia e quasi due settimane dopo, il 14 ottobre, viene accusata di omicidio di primo grado, omicidio colposo e maltrattamento di minore. Tutte cose per cui però lei si dichiara innocente. A quel punto, amici, era chiaro che Kaylee fosse morta e la conferma a questa supposizione arriva l'11 dicembre del 2008 quando un uomo trova un teschio vicino casa dei genitori di Casey e poco più tardi vengono anche ritrovati dei resti dello scheletro di una bambina in una boscaglia circa un chilometro da casa di Casey e quando dico casa di Casey in realtà intendo casa dei genitori però lei viveva lì. Attaccato al teschio c'erano anche tracce di nastro adesivo e altre tracce dello stesso nastro adesivo vengono trovate anche vicino ai resti del corpo. Si pensa che i resti fossero sparsi a causa degli animali selvatici. Viene anche trovato lì vicino uno zainetto rosso della Disney appartenente a Kaylee con all'interno altri resti e in più una bottiglia di Gatorade con all'interno della bottiglietta una siringa. Le analisi del DNA confermano che quelli purtroppo erano proprio tutti i resti di Kaylee Anthony e dall'autopsia non ci sono dubbi qualcuno l'aveva uccisa. Quella settimana l'avvocato di Casey Anthony un uomo di nome José Baez presenta una mozione richiedendo accesso al luogo in cui erano stati ritrovati i resti di Kaylee perché secondo lui era chiaro che la scena fosse stata alterata dai numerosi agenti di polizia che avevano fatto le indagini che a detta sua avevano tutti inquinato le prove. L'avvocato Baez chiede anche alla corte di ordinare una seconda autopsia sui resti di Kaylee ma entrambe le richieste vengono infine respinte. Nell'aprile del 2009 l'accusa annuncia di voler chiedere la pena di morte per Casey Anthony ma il giudice Stan Strickland decide infine che sarebbe stata la giuria stessa a decidere se condannare a morte Casey oppure no nel caso in cui decidessero di giudicarla colpevole ovviamente. Durante questo periodo Casey si trovava in prigione sempre lì in Florida e si trovava lì dall'ultima volta che era stata arrestata a metà del 2008. La polizia quindi decide di interrogare i detenuti che erano stati a contatto con lei in prigione e i dettagli che vengono fuori da questi interrogatori mettono i brividi. Viene fuori che Casey si era confidata con diverse detenute all'interno del carcere e a due in particolare una di nome Robin Adams con cui si era scambiata anche più di 50 lettere e l'altra di nome Maya Derkovich aveva confidato di dare molto spesso delle sostanze a sua figlia Kaylee per farla addormentare. Ed ecco che la storia di Zenny the Nanny riferito all'Oxanax torna a nessuno però aveva mai confessato di aver ucciso Kaylee ma da queste dichiarazioni i detective mettono un po' insieme i pezzi. Vi ricordate che avevano trovato tracce di cloroformio nella macchina di Casey e avevano anche trovato quella ricerca su Google su questa sostanza? Beh, il cloroformio è una sostanza che in passato si usava come anestetico generale che poi però non è più stato utilizzato per questo scopo a causa della sua tossicità. è comunque una sostanza che fa addormentare sapete nei film quando rapiscono le persone da dietro gli mettono sulla bocca questo fazzoletto imbevuto di qualcosa ecco solitamente il fazzoletto è imbevuto di cloroformio che è talmente potente da farti perdere subito conoscenza. Tracce di cloroformio erano state trovate anche nella siringa trovata all'interno della Gatorade nello zainetto di Kaylee il processo di Casey finalmente inizia il 24 maggio del 2011 più di tre anni dopo la morte della piccola Kaylee nella ringa iniziale l'avvocato Linda Burdick mostra alla giuria una foto di Kaylee quando era ancora in vita e subito dopo mostra una foto dei suoi resti trovati dalla polizia sottolinea il fatto che sua madre Casey non avesse denunciato la sua scomparsa per più di un mese preferendo invece fare festa fare shopping farsi tatuaggi prima di ammettere ai suoi genitori di non aver visto sua figlia per più di un mese e di non sapere dove fosse e teorizza che Casey abbia usato il cloroformio per far addormentare Kaylee e che poi le abbia messo il nastro adesivo sul naso e sulla bocca per farla soffocare e che successivamente avesse scaricato i suoi resti nella boscaglia vicino casa sua trasportandoli proprio con la macchina che aveva poi abbandonato davanti a quel negozio la difesa invece l'avvocato di Casey di cui abbiamo parlato prima José Baez nella sua ringa iniziale ribatte sostenendo che secondo lui Kaylee era morta annegata nella piscina di casa dei genitori di Casey il 16 giugno del 2008 teorizza anche che sia stato il padre di Casey a trovare il corpo e dichiara le seguenti parole non stiamo dicendo che sia stato George Anthony ad uccidere sua nipote è stato un incidente un incidente che però è andato fuori controllo la difesa sostiene anche e questo perché Casey se n'era uscita con questa cosa ad un certo punto che George suo padre abbia sempre fatto violenza su di lei su Casey violenza sessuale da quando aveva soli otto anni questo è stato il motivo per cui Casey si è comportata come si è comportata quando sua figlia è scomparsa per questo non aveva detto niente era spaventata l'avvocato Byetz continua dicendo praticamente che George stava facendo prendere la colpa a sua figlia per una cosa che aveva fatto lui proprio perché così nessuno avrebbe potuto scoprire il fatto che lui molestasse Casey da tutta una vita George Anthony che è stato il primo chiamato a testimoniare ovviamente nega tutte queste accuse sia quelle di molestie sia quelle di aver fatto morire Kaylee accidentalmente dicendo che oltretutto quella era la prima volta che sentiva quella teoria bizzarra della piscina anche Cindy la madre di Casey viene chiamata a testimoniare e le sue dichiarazioni scioccano tutti soprattutto l'accusa Cindy sostiene di essere stata lei a cercare più volte su internet la parola cloroformio non Casey e questo perché si era confusa in realtà a detta sua lei voleva cercare la parola clorofilla non cloroformio perché aveva paura che il suo cane fosse stato avvelenato da una foglia di bambù che aveva mangiato quindi in realtà voleva cercare tipo se la clorofilla nella foglia di bambù fosse tossica per i cani ma si è sbagliata e invece ha cercato solo la parola cloroformio ma scusate amici correggetemi se sbaglio io ho un cane sono super paranoica più volte mi è capitato di fare questo genere di ricerche ma nel senso il tuo cane mangia una foglia di bambù e tu cerchi su google cloroformio ma anche se avesse cercato la parola giusta no anche se avesse cercato la parola clorofilla cioè il tuo cane mangia la foglia di bambù e tu cerchi clorofilla cioè non cerchi neanche la clorofilla è tossica per i cani ma poi perché proprio la clorofilla cioè uno cercherebbe il bambù è tossico per i cani vabbè comunque insomma era chiaramente tutta una balla ma non secondo me anche secondo l'accusa perché pochi giorni dopo infatti demoliscono questa dichiarazione portando in aula le prove che mostravano che Cindy nel giorno e all'ora di quella misteriosa ricerca su google si trovava a lavoro in ospedale questa cosa viene anche confermata dal suo supervisore di conseguenza se si trovava a lavoro in ospedale non poteva essere a fare questa ricerca sul suo computer a casa sua quindi niente era tutta una bugia per proteggere sua figlia attraverso il loro avvocato Mark Lipman infatti George e Cindy Anthony dicono ai media che loro credevano fermamente che Casey fosse innocente ma allo stesso tempo negavano anche le accuse che lei aveva mosso contro George un'altra testimone chiamata a testimoniare è una donna di nome Crystal Holloway che a quanto pare era l'amante di George il padre di Casey quindi che casino viene anche fuori questa cosa durante il processo beh questa donna in aula dichiara che nel novembre del 2008 un mese prima che trovassero i resti della piccola Kaylee George le aveva confidato che sua nipote era morta e che la sua morte era stata un incidente ma la donna dice di non avergli chiesto più niente di non aver più fatto domande quindi boh cosa significava non si sa George nega tutto ciò nega persino che la donna fosse la sua amante e nega di averle mai detto una cosa del genere chiamano a testimoniare anche l'ultimo fidanzato ormai ex di Casey che era il fidanzato con cui stava nel periodo in cui Kaylee era scomparsa un ragazzo di nome Anthony Lazzaro chiamano a testimoniare lui insieme ai suoi tre coinquilini gli uomini testimoniano dicendo che Casey si era trasferita nel loro appartamento poco prima che Kaylee sparisse quindi quando lei è andata via da casa dei suoi genitori a quanto pare è andata a vivere con loro raccontano che andava spesso alle feste dicendo sempre che nel frattempo sua figlia rimaneva da una babysitter i quattro uomini raccontano però di aver sempre trovato strano il fatto di non aver mai sentito Casey parlare al telefono con questa babysitter né di averla mai vista di persona ma il testimone chiave in tutto ciò è il dottor Vass un antropologo forense che viene nominato come esperto nell'analisi degli odori grazie alla sua decennale esperienza nella decomposizione del corpo umano il dottor Vass dichiara che il bagagliaio della macchina di Casey conteneva abbondanti tracce di cloroformio così come un altro agente chimico che se somministrato potrebbe benissimo uccidere una bambina gli fanno anche annusare dei campioni prelevati dal bagagliaio della macchina e lui conferma quello era senza alcun dubbio odore di un corpo umano in decomposizione per confutare la sua testimonianza la difesa chiama Michael Sigmund un chimico del centro nazionale della scienza forense lui all'inizio dichiara che in realtà i campioni prelevati dal bagagliaio non hanno mai dato esito positivo quando sono stati testati per capire appunto se fossero tracce di resti di corpo umano in decomposizione ma successivamente si rimangia questa cosa dichiarando che i metodi del dottor Vass in realtà erano senza dubbio più efficaci dei suoi quindi fondamentalmente se il dottor Vass diceva che lì c'era un cadavere lì c'era un cadavere arriviamo alle arringhe finali il 3 luglio del 2011 l'accusa dice alla corte che secondo loro Casey aveva ucciso Kaylee semplicemente perché avere una figlia le impediva di avere una relazione con il suo fidanzato dei tempi questo Anthony Lazzaro che lavorava come promoter nelle discoteche aveva uno stile di vita che non si sposava bene con quello di una mamma single continua dicendo le seguenti parole ve le cito qualcosa doveva essere sacrificato e quel qualcosa sarebbe stato o la vita che voleva vivere o la vita di sua figlia una vita che pesava sulla sua Casey ha scelto di sacrificare sua figlia nel frattempo la difesa l'avvocato Baez inizia la sua ringa finale dicendo alla giuria che nessuno poteva sapere come fosse morta Kaylee Anthony sì è vero lui e il suo team non avevano fornito abbastanza prove che fosse morta nella piscina dei genitori di Casey ma neanche il team dell'accusa aveva fornito abbastanza prove che fosse stata uccisa da sua madre e continua dicendo che questo dovrebbe essere abbastanza per non far emanare un verdetto di colpevolezza perché sono tutti innocenti fino a prova contraria ma in questo caso secondo lui la prova contraria non c'era o comunque non era abbastanza solida l'avvocato Baez dichiara anche ai media che le macchie e le tracce di decomposizione nella macchina di Casey potevano benissimo provenire da quella busta di spazzatura che era stata lasciata lì dentro a marcire perché alla fine non c'erano testimoni che avessero visto Casey uccidere sua figlia non c'era una prova inconfutabile che Kaylee fosse morta soffocata dal nastro adesivo o uccisa dal cloroformio erano tutte insomma prove circostanziali Casey nel frattempo durante tutto il processo rimane stoica raramente la vediamo piangere piange solo per qualche istante quando viene mostrato un video di lei che giocava con Kaylee ma anche lì dopo pochi secondi si ricompone subito il 5 luglio del 2011 dopo due mesi di processo la giuria si ritira per deliberare e amici dopo dieci ore emanano il verdetto Casey Anthony viene giudicata innocente innocente allora viene dichiarata innocente per quanto riguarda l'omicidio ma colpevole di aver fornito comunque false informazioni alle autorità e per quello viene condannata ad un anno di prigione ma essendo stata già in carcere dal 2008 decidono che ci avrebbe passato solo più altri dieci giorni e basta è così il 17 luglio del 2011 Casey Anthony viene rilasciata e da quel momento amici è libera questo caso è molto controverso ha fatto arrabbiare tantissime persone come potrete immaginare erano tutti convinti della sua colpevolezza e sono in molti infatti a paragonare questo caso al caso di O.J. Simpson ho fatto un video su di lui se volete vederlo ve lo metto in descrizione ma ne approfitto perché in tantissimi me l'avete chiesto se per caso non riuscite a vedere il video su O.J. Simpson e perché il nostro caro YouTube ci ha messo sopra una bella restrizione quindi adesso solo pochissime persone possono visualizzarlo e rispondo anche un'altra domanda che mi fate spesso questo è il motivo per cui censuro tante parole e metto magari dei numeri dei simboli nei titoli che so che sono orribili ma ovviamente non posso passare settimane a creare dei video che poi vengono bloccati non avrebbe molto senso chiusa parentesi comunque successivamente a questo processo diversi stati americani hanno fatto pressione per far introdurre la legge di Kaylee una legge che renda il non denunciare la scomparsa di un minore da parte di un genitore un reato e nel 2012 questa legge è entrata in vigore nello stato della Florida Casey dopo la sua assoluzione viene costretta a dichiarare bancarotta ma trova molto presto un lavoro e sapete dove cosa e con chi inizia a lavorare con Patrick McKenna che sarebbe uno degli investigatori privati che il suo avvocato aveva assunto per investigare sul suo caso cioè quindi diventa una sorta di investigatrice privata anche lei e in quel periodo tra l'altro viene fuori una notizia sconcertante molti si chiedevano come avesse fatto Casey Anthony a pagare il suo avvocato Baez senza soldi perché non aveva soldi non aveva un lavoro e la risposta amici è semplice a quanto pare con il sesso a quanto pare perché non è una notizia confermata ovviamente i due avevano avuto una relazione ma non era una relazione amorosa era proprio uno scambio di favori cioè Casey offriva il suo corpo e in cambio l'avvocato lavorava al suo caso e questo secondo un ex investigatore privato di nome Dominic Casey che anche lui aveva lavorato nel team degli avvocati di difesa di Casey Anthony al processo Dominic racconta che un giorno era entrato nell'ufficio dell'avvocato Baez e aveva trovato l'uomo insieme a Casey Anthony completamente nuda l'avvocato però nega la cosa dicendo che assolutamente non aveva mai avuto rapporti intimi con la sua cliente e anzi se non sbaglio ha anche denunciato questa persona per insomma diffamazione comunque Casey Anthony rimane a vivere in Florida ma da dopo il processo taglia completamente i ponti con i suoi genitori nonostante loro comunque l'abbiano sostenuta durante tutto il processo lei comunque smette di parlargli e nel 2017 rilascia un'intervista esclusiva in cui dichiara che ancora oggi non ha nessuna idea di come sia morta sua figlia aggiunge anche e cito non non ne frega un cazzo di quello che la gente pensa di me non me ne frega niente e mai me ne fregherà io sto bene con me stessa e la notte dormo benissimo ma mentre lei dorme sonni tranquilli amici non tutti ci riescono perché nel 2021 dieci anni dopo il processo uno dei membri della giuria dichiara di essersi pentito amaramente di averla scagionata racconta questo la mia decisione mi perseguita ancora oggi se oggi dovessi fare tutto da capo so che farei molta più pressione per accusarla almeno di un reato almeno di omitio involontario o di maltrattamento di minore non so perché non l'ho fatto allora a quei tempi ero debole e non ho fatto valere quello che pensavo e aggiunge anche è traumatico pensarci e ogni giorno mi pento e vorrei aver fatto le cose in modo diverso ma ormai fa parte di quello che sono questo caso rimarrà con me fino al giorno in cui morirò questo giurato ha rifiutato di rivelare il suo nome anche perché a causa dell'indignazione delle persone per il loro verdetto uno dei giurati è stato costretto a lasciare lo stato e a trasferirsi lontano da lì perché non riusciva più a vivere una vita normale la gente lo odiava e non era l'unico molti di loro infatti hanno addirittura ricevuto minacce di morte questo caso quindi è stato molto sentito dagli americani molti si sono proprio sentiti traditi dal sistema di giustizia del loro paese molti sono convinti che Casey Anthony sia stata assolta solo perché è una ragazza giovane carina bianca fosse stata una donna afroamericana o di un'altra etnia o di un'altra classe sociale forse non sarebbe stata assolta forse non ne avremmo neanche sentito parlare così tanto nel 2018 comunque il caso è stato riaperto e niente meno che dalla nota avvocatessa penalista Marsha Clark ve la ricordate era una degli avvocati dell'accusa proprio nel processo di O.J. Simpson c'è proprio una docu-serie in cui lei indaga e riesamina tutte le prove del caso di Casey Anthony e si focalizza soprattutto sul nastro adesivo che era stato trovato sui resti di Kaylee nel programma che io amici non ho visto ma mi sono documentata su internet Marsha Clark chiede cioè fa questa semplice domanda se un bambino muore accidentalmente in una piscina annegato non gli metti del nastro adesivo sul naso sulla bocca giusto? e in ogni caso se un bambino cade in una piscina non chiami il numero d'emergenza trova anche degli elementi curiosi come per esempio il fatto che sul computer di Casey Anthony oltre che le ricerche sulla parola clorofilla cloroformio era stata fatta anche un'altra ricerca piuttosto importante qualcuno aveva cercato foolproof suffocation che significa è tipo soffocamento sicuro cioè come soffocare in modo sicuro a prova di stupido l'avvocato di Casey Anthony ai tempi del processo sosteneva che quella ricerca fosse stata fatta dal padre di Casey che in quel periodo soffriva di depressione e aveva avuto pensieri suicidi ma Marshall Clark riesce in questa docu-serie a dimostrare che quella ricerca era stata fatta proprio da Casey ma a quanto pare esiste una legge che impedisce che si venga processati due volte per la stessa identica cosa quindi niente Casey è libera e lo rimarrà e probabilmente purtroppo amici non sapremo mai che cosa è successo davvero alla povera Kaylee amici sono curiosissima di conoscere le vostre opinioni su questo caso secondo voi che cosa è successo davvero pensate che Casey Anthony sia colpevole oppure no sono curiosa di sapere se esiste davvero al mondo qualcuno che creda alla sua innocenza quindi se è così per favore lasciatemi un commento queste amici sono tutte le informazioni che ho su questo caso grazie per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e come al solito ci rivediamo al prossimo video ciao